Ormai è quasi una tradizione. Anno dopo anno, generazione dopo generazione, la serie Rider di MSI torna sempre da noi. E qui con me oggi ho una bella bestiolina. Parlo ovviamente del Rider GE76, il nuovo desktop replacement di MSI, aggiornato alla dodicesima generazione di processori Intel. Ad onor del vero, però, quando parliamo di desktop replacement, solitamente ci vengono in mente portatili spessi, pesanti e belli imponenti in generale, mentre il G76 si mantiene decisamente più compatto ed elegante, nonostante i suoi 17 pollici di diagonale del display. Facciamo però un passo alla volta e parliamo di cosa c'è all'interno. Il modello che abbiamo qui con noi monta il nuovo Core i7-12700H, ottimo compagno di gioco e di lavoro, equipaggiato da 6 P-Core e 8 E-Core per un totale di 20 threads attivi e in grado di gestire tranquillamente anche le applicazioni professionali anche più complesse. A questo MSI ha abbinato in questo caso una RTX 3080 Laptop, 32 GB di memoria RAM DDR5 a 4800MHz e 2TB di SSD M.2 in standard PCIe 4.0. Il display, un bel 17 pollici, ha una risoluzione Quad HD ed è abbinata anche ad un refresh rate di 240Hz, pienamente sfruttabile ovviamente dalla 3080 all'interno nei giochi competitivi laddove si riesce anche a generare una gran quantità di FPS anche a risoluzione Quad HD. Si tratta di un pannello IPS level di buona qualità per quanto riguarda la resa cromatica e i tempi di risposta. Chiaramente la differenza nell'uso di tutti i giorni qui però la fa sicuramente il refresh rate che rende l'utilizzo molto più fluido e reattivo sia in gioco ma anche nella navigazione durante l'utilizzo del sistema più classico. Parlando di estetica questo nuovo Ryder rimane bello sobrio ed elegante nonostante i palesi tratti tipici dei prodotti da gaming. L'elemento dominante una volta acceso chiaramente è la light bar quindi questa banda colorata che vedete appena sotto il touchpad con tutti i suoi effetti di illuminazione ovviamente coordinati con la tastiera e che potrete controllare tramite l'M6 Center che volendo vi permette anche di disattivarla quindi avendo semplicemente un effetto vetro nero nella parte frontale qui in basso. Per il resto la scocca interna è realizzata prevalentemente in metallo satinato così come la scocca posteriore al display che è bella pulita lineare e caratterizzata unicamente dal logo centrale non provvisto di led quindi semplicemente in rilievo e dalle cerniere abbastanza pronunciate un po per ricordare lo stile da gaming. Parlando di connettività però trattandosi di un notebook non esattamente ultra sottile il rider monta un'ottima serie di porte a partire da 4 usb 3.2 tra in type A e una in type C, una thunderbolt 4, una ethernet, un lettore sd, un jack per le cuffie e connettori hdmi in grado di raggiungere i 8K a 60Hz o anche i 4K a 120Hz di trasferimento immagine, ovviamente a dimensione full size oltre a una mini display port qua nella parte posteriore. Insomma le porte non mancano e non manca neanche la compatibilità con il wifi può aggiornato a X6e, bluetooth 5.2 e killer lan a 2.5g oltre a una webcam full hd. La scocca inferiore invece è sempre piuttosto semplice anche da rimuovere per accedere all'ardo all'interno e aggiornare rimuovendo o aggiungendo componenti. In questo senso oltre alla possibilità di fare manutenzione ordinaria come rimuovere la polvere di troppo all'interno, si possono anche aggiornare le ram ad esempio o aggiungere ssd m2, a tal proposito è già presente uno slot aggiuntivo PCIe 4.0 o eventualmente se volete fare qualcosa di addirittura più avanzato sostituire anche la batteria. Ovviamente ve lo ricordo se volete farlo voi proprio in autonomia rompendo il sigillo invalidate la garanzia. In realtà è possibile mantenere la garanzia anche se rompete il sigillo ed è uno dei vantaggi di acquistare un notebook MSI. La procedura in questo caso è molto semplice perché vi basta semplicemente contattare il customer service prima di effettuare l'upgrade. Tastiere e touchpad sono entrambi di buon livello, sono comodi, belli scattanti e reattivi praticamente in ogni situazione e la prima in particolare è realizzata come da tradizione in collaborazione con SteelSeries, completa anche di tastirino numerico in questa versione con tasti funzione oltre che totalmente retroilluminata ovviamente e personalizzabile assieme alla barra led di cui abbiamo parlato prima. Il feedback è piacevole, la risposta è precisa per ogni tasto ed è simpatico anche il fatto che tenendo premuto il tasto funzione si illuminino i tasti che danno accesso a diverse shortcut diciamo. Il touchpad dal canto suo riconosce molto bene il tocco e le gesture di Windows, molto meglio anche di tanti altri notebook provati fino ad oggi, anche se non mi convince appieno alla sua giustificazione verso sinistra poiché in gioco il polso appoggia praticamente sempre in questa zona rimanendo fisso sui tasti WASD. E se è vero sì che il touchpad può essere disattivato in un secondo tramite l'FN più F3, credo che comunque chi gioca abitualmente su notebook senza collegare per forza di cose mouse e tastiere esterne non lo troverà particolarmente comodo in questo posizionamento. E rimanendo qui in questa zona ai lati della tastiera sono presenti i due speaker che non se la cavano male per la riproduzione di contenuti. Il comparto audio in questo caso è realizzato in collaborazione sempre con Naimic e Nine Audio, questa volta però con un sistema doppio woofer che dona una profondità in più al suono anche nelle sessioni di gioco. C'è da dire però che sotto sforzo in particolar modo l'impianto di dissipazione che c'è all'interno si fa sentire e durante le sessioni di gioco in particolare abbiamo preferito quasi sempre le cuffie al sistema di speaker integrato. Lato prestazioni il Rider se la cava molto bene. Tra le altre cose lo abbiamo provato con Cyberpunk, ad esempio Metro Exodus, l'Enhanced Edition, Formula 1 2021, sia in Quad HD che in Full HD mantenendo sempre i preset di dettagli al livello più elevato. Oltretutto montando una RTX di ultima generazione il GE76 in questo caso può tranquillamente gestire anche le migliori applicazioni di raytracing nei giochi odierni, oltre ad avere accesso alle tecnologie di scaling tramite Deep Learning come il DLSS di Nvidia. L'unico gioco tra quelli che abbiamo testato in grado di far scendere questa 3080 laptop sotto i 60 fps medi è stato Cyberpunk, impostato ovviamente con i dettagli al massimo, compreso il raytracing, che ha totalizzato una media di 53 fps sul GE76. Per praticamente tutti gli altri benchmark i risultati viaggiano sempre nell'intorno dei 100 fps medi o superiori, con il test di Formula 1 che supera questa soglia in entrambe le risoluzioni testate. Inoltre il display, che come vi dicevo è da 240 Hz, regala un'ottima fluidità generale soprattutto nei giochi competitivi, dove l'hardware interno può spingere ancora di più soprattutto nel framerate, permettendo ovviamente di sfruttare appieno questa frequenza così elevata. Ed infine, parlando di autonomia, che è sì importante per un notebook, si tratta pur sempre di un desktop replacement, quindi non aspettatevi ore e ore di gioco lontani dalla presa della corrente. Questo è sempre dovuto alle limitazioni della batteria imposte dalle normative sul trasporto aereo in particolare, che non permettono ai produttori di notebook di superare la capacità di 100Wh per le batterie interne ai notebook. Qui l'abbinata 12700H e 3080 laptop può regalare ottime performance ma chiaramente non consuma poco, specialmente quando la tirate al massimo. Questo tradotto in poche parole significa una o due ore di gaming continuativo, a seconda del gioco ovviamente, prima di dovervi riattaccare alla presa di corrente. Giunti alle conclusioni, nel momento in cui sto registrando questo video, il nuovo G76 Rider costa 3449€ su Amazon in offerta rispetto al prezzo media che dovrebbe essere 3599€, quindi 150€ di differenza. Ed è ad oggi una delle pochissime opzioni di notebook già equipaggiata della dodicesima generazione Intel con una scheda video così prestante come una 3080. Se vi interessa come al solito io vi lascio come sempre il link diretto ad Amazon per monitorare l'offerta qua sotto in descrizione, ma voi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se state puntando a una soluzione di questo tipo, se avete già qualcosa del genere in casa, un desktop replacement o un portatile particolarmente prestante, fatemi sapere quello che volete come al solito qua sotto nei commenti e noi ci vediamo nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao!